Stiamo già preparando, quindi io vorrei fare anch'io un humoristico, però io vorrei che lo fosse, perché sono d'accordo con Diego che noi saremmo ancora in grado e ancora in tempo per fare dei film comici abbastanza riusciti, anche perché nei lontani anni 70 facciamo dei film surreali di una comicità molto irreverente, molto anticipatoria, che non è per un successo che meritavano, ma chi li vede adesso ne rimane veramente entusiasta, Paolo Di Bordella, tutti i rifunti tra i morti, eccetera, lo stesso agli amici della Margherita, che è stato invece un discreto successo, si può definire un film, e non la Mazzurca, la Mazzurca, certo, la Mazzurca della Santa del Boro, quindi io sono d'accordo con Diego, Diego è d'accordo, quindi lo diamo io e te, lui convince le punti e basta. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie a tutti, buon grazie.